Salutato l'esercito di cestisti dei tornei Ciaorudi e Olimpia che di fatto hanno dato il via al turismo pesarese nel periodo pasquale, il basket la fa da padrone anche nel ponte del 25 aprile e in quello del primo maggio. E così da 28 anni con l'Adriatica Cup che da venerdì porterà in città 190 squadre per 4.500 presenze sul territorio e poi ne porterà altre 4.000 dal 28 aprile con le 160 squadre per la seconda parte del torneo che da 20 anni è anche dedicato alla memoria di Giorgio Marollo. Altri tornei, stessi problemi di manifestazioni sportive che crescono oltre la misura della ricettività del territorio. 26-27 squadre sono rimaste fuori, sono 190, siamo riusciti a metterne, ne abbiamo messi 110 a Pesaro e il restante su Cattolica e Gabice. Questo ovviamente anche perché le strutture alberghiere si stanno rinnovando, qualcuno ha qualche difficoltà col personale e quindi abbiamo dovuto anche usare la fine Romagna per sopperire alle squadre che non siamo riusciti a portare a Pesaro. Ad affiancare Ponzoni, APA o Tels è il comune di Pesaro che plaudono a questo annuale effetto di destagionalizzazione perfettamente in linea alla filosofia di Pesaro città del basket. Pesaro che risponde con 25 impianti sportivi a cui si aggiungono un'altra mezza dozzina fra Cattolica e Gabice Mare per ospitare tutte le categorie del basket giovanile. Parte dal mini basket quindi anni 9-10 fino agli anni 19, quindi abbiamo esordienti under 13, 14, 15, 16 e 17. Abbiamo circa 24 squadre per ogni categoria più il mini basket che sono una settantina di squadre, quindi insomma un bel potenziale di gioventù a Pesaro per questa manifestazione. che ricordiamo ha 28 anni, quindi insomma è una manifestazione, siamo partiti da lontano 95 e ogni anno si è sempre migliorata, si è sempre maggiorata con le squadre. Quindi siamo a un punto che dobbiamo lasciare le squadre quasi, questo bene. Non bene forse è l'organizzazione di questi eventi, secondo me la città dovrebbe partecipare un po' di più, le agenzie pubbliche, private dovremmo sederci a un tavolo e trovare una soluzione per poter coordinare questi grossi eventi tutti insieme, perché solo il tour operator o l'organizzazione è difficile mettere insieme tutti i tasselli.